Dinanzi la giunta regionale presidio dei lavoratori che operano nel comparto della vigilanza in favore delle sedi delle amministrazioni locali e territoriali preoccupati dalle condizioni lavorative che potrebbero peggiorare a seguito dell'accordo di collaborazione con la città metropolitana di Torino per l'espletamento di una procedura di gara diretta, un accordo che è stato già impugnato dai sindacati. E' stata fatta una gara d'appalto tremenda, c'è una riduzione importante di ore, uno spostamento di lavoratori che da vigilanti armati dovrebbero diventare vigilanti non armati, quindi con una contrazione economica, quindi abbiamo un dubbio problema, alcuni resteranno a casa, alcuni verranno licenziati, altri invece cambieranno mestiere e da vigilanti armati diventeranno vigilanti non armati. Il nostro stipendio è una cosa come guardia giurata, come operatore fiduciario è un'altra cosa, quindi andremo oltre a perdere in soldi, andremo a perdere anche come mansione, perché verremo demanzionati. Durissimo il commento che arriva dagli stessi sindacati dopo l'incontro interlocutorio avuto con l'assessore Cefaratti su un appalto dove non ci sono vincoli a tutela delle maestranze. A questo punto l'assessore al lavoro si dovrebbe dimettere, adesso, subito, perché non è pensabile che un assessore al lavoro stia creando il licenziamento. L'assessore al lavoro, l'assessorato al lavoro è quel luogo dove si salvaguardi al lavoro, dove si crea lavoro, dove si crea occupazione. Invece l'assessore in maniera molto fredda dice che ci sono pochi soldi per questo tipo di servizio. Non abbiamo bisogno dell'assessore al lavoro, non è l'assessore al lavoro, abbiamo bisogno di un ragioniere, speriamo allora che tutta questa classe politica venga annientata. Un'avvertenza, quella della vigilanza, che si aggiunge a tante altre e che dimostra ancora una volta la fragilità del tessuto occupazionale del Molise.